In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi, Amen. Sialodato Gesù Cristo, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. La storia sacra, Episodio VII. Liberazione degli Ebrei, predilezione di Dio per gli Ebrei. La liberazione degli Ebrei. Mosè si presentò al Faraone e in nome di Dio gli ordinò di mettere in libertà il popolo ebreo. Il re non ne volle sapere. Il Dio colpì allora tutto il regno con dieci castighi, detti le dieci piaghe d'Egitto. Le acque si mutarono in sangue, vi fu un'invasione di rane, poi un'infestazione di zanzare e di mosche schifose, una terribile peste, ulcere spaventose che uccisero uomini e animali, la grandine, nuvoloni di cavallette, e infine le tenebre. Gli egiziani erano terrorizzati. A ogni nuovo castigo il Faraone prometteva di lasciare partire gli israeliti. Ma poi li trattava ancora più duramente. Mosè minacciò allora la decima piaga, la più terribile. In una sola notte sarebbero morti i primogeniti di tutti gli egiziani. Mosè intanto radunò il popolo. Gli ordinò di uccidere un agnello e di tingere col sangue di esso le porte delle proprie case, e nel frattempo di tenersi pronti per la partenza. L'angelo del Signore passò in quella notte sull'intero Egitto, e uccise tutti i primogeniti di quelle famiglie, le cui case non erano segnate col sangue dell'agnello. In quello sterminio perì anche il figlio del Faraone. Atterrito, il Faraone chiamò Mosè e gli ordinò di partire immediatamente. Gli ebrei si posero subito in cammino. In ricordo del passaggio dell'angelo e dell'uscita dall'Egitto, Mosè istituì la festa della Pasqua, che significa passaggio. Il nostro agnello pasquale è Gesù, l'agnello senza macchia, che si è lasciato uccidere per la nostra salvezza. La predilezione di Dio per gli ebrei In cammino verso la terra promessa, gli ebrei erano guidati da una nube prodigiosa, che di giorno li riparava dai raggi cocenti del sole, e di notte rischiarava loro la via. Il Faraone si pentì ben presto di avere lasciato partire gli ebrei, e lanciò sui loro passi un intero esercito. I figli di Israele, già accampati presso il Mar Rosso, si videro persi. Mosè disse loro, non temete, Dio stesso combatterà per voi. Così dicendo, stese la mano sulle acque, e queste immediatamente si divisero, lasciando nel mezzo un largo passaggio. Gli ebrei passarono tutti. Anche gli egiziani si inoltrarono per quella via, ma quando furono nel bel mezzo del mare, Mosè stese la mano, e le acque precipitarono loro addosso. Perirono tutti, compreso il Faraone. Inni di giubilo si innalzarono al cielo dai figli di Israele. Innumerevoli sono i prodigi che Dio operò per il suo popolo. Durante i quarant'anni che questi trascorse nel deserto, egli ebbe cura di loro, come il più tenero dei padri a cura dei suoi figli. I loro vestiti e le loro scarpe non si consumarono. Per dissetarli fece scaturire l'acqua dalla roccia. Li saziò di carne, mandando stormi di uccelli, e li nutrì ogni giorno con la manna. Si erano lamentati che non avevano pane, ed ecco un mattino videro il terreno cosparso di rugiada granulosa. Questo è il pane che il Signore Dio vostro vi manda, disse Mosè. La manna è una bella figura della Santissima Eucarestia. Sia lodato Gesù Cristo. In nomine Patris et Fili e Spiritus Santi. Amen.